Xperia X10 Mini è l'innovativo cellulare compact touch di Sony Ericsson. Le dimensioni compatte unite a caratteristiche di alto livello fanno di Sony Ericsson Xperia X10 Mini uno smartphone decisamente completo ed estremamente comodo nell'utilizzo anche con una sola mano. Display da 2,55 pollici con full touchscreen capacitivo, innovativa e l'interfaccia intuitiva a quattro angoli personalizzabili che permette un accesso istantaneo e naturale a tutte le applicazioni. Un'altra innovazione è il design originale ed armonico, due cover intercambiabili per ogni confezione caratterizzate da un human curvature e da materiale antiscivolo che garantiscono un'impugnatura naturale e permettono di eseguire tutte le operazioni con una sola mano. La dotazione è completata dal jack da 3,5 mm, dalla presa micro USB, dal tasto di accesso rapido per foto e videocamere e dai tasti di regolazione volume. Il sistema operativo Android, aggiornabile facilmente alle versioni successive con la conseguente possibilità di poter scaricare infinite applicazioni da Android Market permette al dispositivo mobile di offrire sempre le funzionalità più innovative e la migliore esperienza d'uso. Tra le applicazioni precaricate troviamo Graffiti 3D per fare graffiti virtuali e condividerli su Facebook o via e-mail. Sempre in tema di innovazioni troviamo il pulsante Infinite con doppia funzione. Nella rubrica permette di accedere a Timescape con cui si visualizzano in un'unica sezione tutte le comunicazioni intercorse con un contatto su Facebook, Twitter, e-mail, SMS, MMS e chiamate. Nel music player invece il pulsante Infinite permette di accedere velocemente a tutti i video dell'artista presenti su YouTube e a tutti i brani o album disponibili su PlayNow, lo store digitale di Sony Ericsson. Ma Sony Ericsson Xperia X10 Mini in solo 88 grammi è in grado di offrire molto altro. Fotocamera da 5 megapixel con LED flash, autofocus e stabilizzatore d'immagine che permette di scattare foto e girare video di ottima qualità. Qualcomm Snapdragon da 600 MHz, processore che permette di utilizzare contemporaneamente più funzioni mantenendo velocità e fluidità di prestazioni. Internet a banda larga, HSPI e Wi-Fi per essere sempre connessi e poter aggiornare il proprio profilo sui social networks in modo facile e veloce in qualunque momento. GPS integrato da utilizzare con Google Maps o con WisePilot, applicazione preinstallata in versione trial con mappe 3D e istruzioni vocali. Degno di nota è Sony Ericsson Sync, il servizio di sincronizzazione online con salvataggio dei contatti, memo, calendario e attività. Il servizio permette di integrare i contatti della rubrica con i contatti di Facebook per averli tutti a portata di mano. È possibile sincronizzare più telefoni per uno stesso account e trasferire i dati dal vecchio al nuovo dispositivo Sony Ericsson. Dopo averlo provato per questa presentazione, riteniamo che Xperia X10 Mini fornisca un'esperienza di utilizzo eccellente. Le dimensioni ridotte, la velocità e la facilità di utilizzo anche con una sola mano, il tutto unito ad un prezzo decisamente interessante, rendono Xperia X10 Mini un oggetto del desiderio. Sony Ericsson Xperia X10 Mini, Mini fuori, infinito dentro.